Non posso dimenticare quanto abbiamo vissuto di tragico a livello sanitario nei mesi scorsi. Così il sindaco di Como, Mario Landriscina, spiega la sua scelta di appoggiare la decisione del governatore Fontana sulla didattica a distanza per le superiori. Adesso sembra che non si veda ciò che sta per arrivarci nuovamente addosso, dice il primo cittadino. La politica deve prendere delle decisioni, darsi delle priorità. Per me adesso è giusto così. Non possiamo fermare il lavoro, dobbiamo intervenire sui trasporti pubblici e tutelare la salute in primo luogo. Ecco dunque che per breve tempo si può, a mio avviso, ricorrere alla didattica a distanza per contenere e controllare il mondo scolastico e dei giovani. Il problema dentro le scuole è indiretto, la grande questione è negli incontri in altri contesti e sui mezzi pubblici, replica il consigliere comunale di Civitas, Bruno Magatti. Chiudere la scuola è una scelta troppo facile, si corre ai ripari partendo da qui. È un peccato perché la didattica a distanza non è la stessa cosa di quella in presenza, soprattutto per gli studenti delle superiori, commenta il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Fabio Aleotti. Non siamo ancora strutturati per garantire un livello qualitativamente sufficiente per le lezioni online. Che dovesse iniziare la scuola era noto da tempo, così come il fatto che potessero aumentare i contagi. C'è stato tutto il tempo, ad esempio, per incrementare le corse dei bus. È stata una mancanza dell'amministrazione. Per i giovani è importante essere presenti, spiega Angelo Orsenigo, consigliere regionale del PD. La Lombardia, sull'onda dei timori per l'incremento esponenziale dei casi Covid, decide di svuotare gli istituti superiori, ma da mesi si sarebbero dovuti valutare i vari scenari, dai orari al trasporto pubblico.